Rappresentare in forma artistica il valore della vera inclusione. Cinque scuole della provincia di Pesaro Urbino negli ultimi mesi si sono prodigate per realizzare arte solidale, titolo del concorso volto a sensibilizzare le nuove generazioni su un tema che dallo scorso luglio ha prodotto anche il protocollo d'intesa promosso dall'Associazione Piattaforma Solidale in favore di ogni azione o iniziativa finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'inclusione in senso allargato. Un protocollo al quale hanno aderito l'amministrazione provinciale, gli ordini degli architetti ingegneri e geometri e cinque scuole, l'Istituto della Rovere di Urbania, la Scuola del Libro di Urbino, il Liceo Artistico Nolfi di Fano, il Bramanti Genga di Pesaro e il Liceo Artistico Mengaroni della stessa Pesaro. Progetti realizzati e esposti oggi per la premiazione del concorso nella Sala Pierangeli della provincia, che sono stati uno splendido manifesto collettivo di elaborazione di spirito critico degli studenti che sottintendono come l'obiettivo del concorso sia stato pienamente raggiunto. L'obiettivo raggiunto è una giornata estremamente importante perché non è un punto d'arrivo, non è un punto fermo, è la tappa di un percorso iniziato qualche anno fa da quando abbiamo costituito Piattaforma Solidaria, nata per dare valore a tre principi fondamentali, quello della solidarietà, dell'accessibilità e dell'inclusione, strettamente collegati fra loro. Quindi oggi è una tappa di un percorso che continuerà per allargare la rete di collaborazione con enti pubblici e enti privati per continuare a parlare di questi principi che, a nostro avviso, è ancora più importante in questo momento storico, laddove il mondo sta affrontando un momento terribile di guerra, di conflitti. Da dove nascono i conflitti? Sia quelli mondiali che quelli personali. Nascono dalla mancata capacità di dare importanza ai principi di solidarietà e di inclusione. Inclusione che non significa solo disabilità, ma pure bullismo, discriminazioni etniche, sessuali e religiose. Tematiche emerse da un concorso che ha premiato come primo classificato l'acrilico su foglio Anche io di Arianna Carboni, della quarta B del liceo artistico Mengaroni di Pesaro. Ho voluto realizzare appunto questa persona che in teoria è immersa nel buio e queste mani le illumino perché io penso sinceramente che il vero valore di una persona si ha quando gli altri lo sanno esprimere al meglio, sanno illuminare questi valori che questa persona ha e quindi queste mani che si accorgono di questa persona e quindi la includono riescono a farla brillare dal buio e a farla uscire fuori. E appunto ho anche voluto invitare, ad esempio sopra in alto al disegno c'è una mano anche che invita gli altri a fare lo stesso, comunque includere le persone perché è il modo in cui possiamo veramente valorizzare tutti. Per Arianna la vittoria si è tradotta in un autoritratto realizzato dal mago delle cubo di Rubik Giovanni Contardi, fin da principio solidale al progetto ma anche in contributi per l'acquisto di materiali didattici, contributi che sono stati assegnati anche agli altri studenti premiati.